La folla sta ora defluendo da Piazza Duomo, il feretro ha appena lasciato il Duomo, accompagnato dal saluto del Presidente della Repubblica di Giorgia Meloni con il fratello Paolo Berlusconi, i figli, la moglie e c'è stato l'ultimo coro per Silvio Berlusconi, l'ultimo urrà per Silvio Berlusconi che ovviamente non dimenticheremo e continueremo sempre a ricordare, magari con la speranza che venga dedicato a lui o venga ricordato in ogni caso nel nuovo stadio, una figura straordinaria della storia d'Italia e della storia del Milan, ma seguiamo le immagini dell'uscita del feretro da Piazza Duomo. Grazie. 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 Ha keinen Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.